oggi oggi resident evil 6 finissima sartoria ragazzi non so se siete pronti io no salve a tutti salve salve allora 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 stiamo proseguendo con la campagna di chris e siamo arrivati a un capitolo che penso sia suppongo sarà tutto di flashback che dovrebbe spiegarci cosa caspita è successo perché ci eravamo lasciati con il nostro chris verde in resident evil 5 con il suo filtro matrix dove era appunto a stewie auguri che hai superato l'anno dai dai avevamo lasciato il nostro chris tranquillo alla fine vabbè si vedovo tragicamente vedovo c'era stata la la terribile perdita terribile perdita di elolli grazie grazie vai a rinnovare la potente grazie che aveva perso no il fidanzato wesker no vabbè aveva nominato wesker era finalmente morto defunto era defunto però adesso l'abbiamo trovato in un bar con un'amnesia che credo sia dovuta un trauma forse ha vissuto un trauma troppo forte quindi ha avuto un'amnesia specifica dell'evento l'ha cancellato penso che lo capiremo adesso che cosa è successo salve salve e quindi boh più che altro mi stupisce anche chris dopo tutta la merda che ha vissuto rimanga particolarmente traumatizzato da qualcosa nel senso vabbè può succedere però dopo tutto quello che gli è successo ha combattuto un mostro gigante tentacolare dentro un vulcano d'accordo quindi non saprei ecco eurin grazie quindi non saprei nel senso cioè se è andato in missione ed è morto qualcuno è roba brutta però è più più normale rispetto a quello che ha vissuto fino ad ora quindi vedremo 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 allora vi ricordo che stiamo giocando la versione playstation 4 su playstation 5 ma non cambia niente non ci sono upgrade comunque la versione playstation 4 e stiamo giocando a difficoltà facile perché stiamo andando veloci non non è quel tipo di run poi per le challenge e i momenti di crisi ci sarà assolutamente una splendida esperienza con sabbaku quindi fra 6-7 anni quando lui arriverà a giocare a racing 2 6 io parteciperò alla sua coop ci sarà da divertirci per adesso per adesso sì ho visto i costumi alternativi di crisi però da quello che ho capito avevo capito che si possono usare soltanto o dopo che finisce il gioco comunque o nella modalità online non ho avuto possibilità di cambiare costume sono ovviamente la premessa va bene andiamo avanti e facciamo le brave persone voi voi non io non capisco perché mi fate dire cose strane allora schermo singolo va bene guarda guarda guardatelo guardate la disperazione un uomo distrutto è un uomo distrutto io adoro quando ci provano così tanto a dare spessore un personaggio che non l'ha mai avuto con kratos ci sono anche riusciti in parte kratos non è che sia una figura sfaccettata però comunque adesso è un personaggio no a un passato a uno straggola una lotta interiore ha avuto un'evoluzione ma con chris ma per favore ma per favore ma dai su sì lo spessore c'è non è quel tipo di spessore volevano loro più avanti più va avanti più diventa grossa assolutamente allora avevo visto questo filmato ma ce lo riguardiamo proprio wide c'è non è solo grosso è proprio largo rispetto agli altri modelli è strecciato capisco che carini ma nel set è un altro modello non c'entra niente nel set è proprio un altro non è questo credo sia basato sul sulla persona sull'uomo che ha fatto il motion capture non so ma non mi piace ma questo è il set non c'entra un cazzo apocrifo per quanto mi riguarda angela grazie ok va bene ok tu sei il sentito fin mccali ok sono ecc fia il sentito ha avuto il tuo espagno ok ecco sì io avvenuto tutto tutto smettete di liudare il nostro povero Chris è puro Chris è puro il libato la sua virtù Chris non ci pensa alle porcherie che pensate voi vergognatevi ok io non mi ricordo più i tasti partiamo da questo che cazzo ok e lui è cattivo? ok allora questo era cattivo perfetto vedete sto imparando Raya non si fa cos'è successo? un attimo non sto capendo niente io non capisco chi è dalla mia parte chi no aiuto chi è che spara? tu sei cattivo? si allora quelli che hanno gli occhi di troppo sono cattivi ok cosa cazzo stai facendo? Pierce che cazzo stai facendo? ok questo posto è pericolosissimo lì c'è uno stronzo col scusso è un basta lo sapevo t'ho visto pezzo di merda pornuto non si fa del male a Chris si se mi sparo non sono cattivi esatto allora ah le 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 perri signori lui è un genio questo è un genio minchia questo è un genio aspetta qui c'è uno stronzo no è morto ok è morto perfetto chi è che spara? ah lì c'è qualcuno Sto giocando benissimo Lo so lo so Grazie Che cazzo è? Mi sono spaventata tantissimo Ma siamo impazziti Mi sono vista arrivare sto coso Mi sembrava una conchiglia incazzata Impazziti siamo impazziti Sì esatto matalo Mi ha fatto tantissimo l'effetto L'effetto monaci di Resident Evil 4 esatto Ah c'è gente qua Bravo Piers li butta giù Io li uccido così mi prendo il merito Mi sembra un buon scambio Efficace Beh qui stiamo giocando a facile Quindi siamo proprio cafoni A livelli pericolosi Questa non me l'aspettavo Questa non me l'aspettavo Non mi ha preso Non mi ha preso Perfetto Devevo correre Via No non è inutile sparare In là Devevo sparare alla Ok va bene No Pierce Non mangiarlo Sta benissimo È solo caduto dal terzo Perché è caduto in piedi Comunque Ma pure 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 Sta fermo Stai Posso fare tunnel Tunnel No Posso fare tunnel Non posso Porca Non si fa E vabbè I muri invisibili però Niente Non c'è gente qua Ma non rompere le scatole Pagliaccio La musica è un po' Ah eeeh Ma figa sta cosa Figa sta cosa Che stai facendo No 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 Gli stavo facendo La mossa Ma gli stavo Facendo La mossa Niente No Bu No Uffa Stai 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 Qui non c'è niente da raccogliere No ma che peccato No ma che peccato No ma Niente Ah noi si è Ma l'avete visto Ma 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 Io non ho Non ho parole Non ho veramente parole Sì anche Sì anche Ah sono proprio esplosi Alla faccia della granata Accecante Comunque Mi hanno letteralmente investito Comunque Vabbè Così che si combatte La minaccia biologica Ragazzi Posso salire qua E' confuso E' confuso Esci fuori E' ciotto Signori E' ciotto Attenzione Si combatte con la democrazia Esatto No vabbè Chris Non è quel tipo di persona Chris è veramente puro Chris ci crede un sacco Ah questo è ancora vivo Aspetta Porca E' lo stronzo lì Che mira Infame Spesso in due Secondo me Ha difficoltà alta Deve essere di un divertente Vabbè Non mi sto divertendo Anche se sono di burro Nel inicio Ma Ma che cazzo sta succedendo Io non so distrarre un secondo Che stai così Stai attentissimi Ah no scusami Cos'è buono Siete tutti uguali Salve salve a tutti Vi siete State divertendo In questo gameplay Mediocre Mediocre A causa mia Principalmente Quindi praticamente Non riesco a immaginare Cosa possa succedere Il mostro Uccide tutti i nostri compagni Forse Ovviamente Finn Farà una finaccia Ma lo sappiamo già Con calma Finn Non ti preoccupare Ok Chris non poteva aprirlo Prima Ok Ah questa è la cosa Al tempo Devo coprirlo Devo coprirlo Ok Copri Finn McCalloy McCalloy Come cazzo Siamo Vabbè Però Un attimo Vabbè Datemi un secondo Qui Metti là Questo Coso Vabbè Io ci vado sotto Che lingua parlano? Non è stato Una idea Sbè Molto Intelligente Un caro amico Oh sì Resident Evil Tu che stai facendo Con quel lanciarazzi? Cosa pensi di fare Con quel lanciarazzi? Eh? Qual è la tua idea? Fammi capire Mi ha fatto un liscio Incredibile Comunque Non so se l'avete notato Non posso Fotte gli lanciarazzi Guarda il momento Di fare Pulizia Bene Chris Bravo Una morte drammatica C'è ancora Ah Attenzione Ho visto Ho visto Porca Ok Questi sono importanti Perché mi danno Mi danno Informazioni Sulla storia Già ce n'è poca Donde ci arrivo Alla spararlo Lì sopra Assolutamente no Porca E ho capito Sa Alzati Chris Dai Abbiamo finito Ok Sono qua Sono qua Fine Sono qua Sono qui Che devo fare Non so che devo fare Fine Fine Sono qua Porca troia Che devo fare Fine Devo spararti Che cazzo Devo fare Fine Vabbè E mi ha detto Di mettermi al sicuro Dove mi devo Mettere al sicuro Ma non era Era a tempo Non ho fatto niente Non ho fatto niente Boh Vabbè Non lo sapremo È stato È stato È stata un'esperienza È stata un'esperienza Che civili dove sono Sono tutti evacuati Infatti Allora Dobbiamo fare Oh bene bene Sono così tanti infetti Come fa Come fa a esserci ancora gente Non lo capisco Io non ho mai capito Sta cosa Sono tutti stinfetti Com'è Com'è il castello Di Residential 4 Ci sono Centinaia di monaci Sono Dove sono tutti maschi Ma in questo caso Boh Vabbè Cioè i civili dove sono qui Mi faccio Mi faccio domande Sì sì Mi faccio domande Troppo complesse Max Grazie Ormai siamo noi Tyrant Praticamente Oh mio Dio Lo stiamo facendo Fantastico Andiamo Eccala Mares copia tutto E ovviamente vale la pena Mettiamo a rischio Sì ma il tempo di reazione Mi era appena apparso Il prompt coi comandi Mi era appena apparso Il prompt coi comandi Io Vabbè Ok Io dico Mettiamo a rischio Un'intera squadra Per salvare Un agente Comunque Mi sembra un'ottima idea Sì Devo premere X Ma Avete visto Che il prompt Mi ha fatto No ma che vita Stai Finer ci ha salvato Quindi adesso ci sentiremo Ancora più Ancora più Posso restare qui a dormire No Saggi ma grazie Scusa se non posso Io penso di avere problemi Io non li vedo Cosa sta succedendo al tizio Perché è caduto Cosa sta succedendo a quel tipo Vabbè è morto Ah è il potro armato che spara L'avevo capito Ah stronzo Non c'è un problema Che servono le armi Quando puoi dargli i pugni Capito È morto coi cazzotti Windeer grazie Sì esatto Finissima sartoria Piena di plot Che belli Che belli Che belli Vedete le macchine Ok Le macchine indistruttibili Che hanno resistito i colpi Del carro armato Fantastico Cose che succedono Sono nei videogiochi Comunque Tu ti metti dietro Non tutti I videogiochi Ovviamente Siete che bello Cioè tu ti Ti metti dietro la macchina Ah grazie Quindi Che dono iscrizioni Tra l'altro Non so se è qui Ma Nel caso Vi faccio gli auguri A Clezzon Che oggi fa il compleanno Tra l'altro Però non so se è in live Non so se è in chat L'ho letto prima Su Telegram Nel caso auguri Anche per Eventualmente dopo Se recupera Il video Chi è che continua a sparare Chi è che ce l'ha con me Non so che sta succedendo È tutto molto caotico Bufusete Poi per certi versi Non lo so Allora Da un certo punto di vista Ovviamente L'idea di questi nemici Estremamente duri Rende tutto Più divertente Quando si gioca in cop Però Però non vi nascondo Che Immaginare Queste Questa enorme quantità Di nemici Come Molto fragile Io non posso fare niente Scusatemi Come molto fragile Non mi dispiace Perché comunque Proprio li falcino Ce ne sono tantissimi Vabbè Io qua non posso scendere Non ho capito Dove andare Perché deve essere Tutto così complicato Non è qua Questa è stata tosta Ma ce l'abbiamo fatta Non era la strada giusta No Ah io ho sbloccato la via Ora mi può Mi può seguire Ok Vai guardate come corre Guardatelo Adesso siamo in due Possiamo spingere Questa cosa Perché da solo Chris non ce la faceva Ovviamente Ha bisogno Ha bisogno Del compagnetto Sì la campagna Di Chris Sembra una campagna Zombie Di color flu Capisco Non è Posso capire Perché non è piaciuto Ho un soldato Che non cammina Ok Quindi dobbiamo Tenere La posizione Resisti Fino all'arrivo Finna Va bene Che succede Ah Ma che è davvero Ma che è davvero Ma riveliamoci Ma questi sono organizzati In meglio di noi Questi sono zombie Ma questi sono infetti Perdonatemi Cioè questi sono più addestrati Di noi Hanno pure più occhi Cioè Basta Con i fucilotti brutti Non si fa Amon Grazie mille L'iscrizione è meritatissima Visto quello che sto facendo qua Povero schifo Però grazie Ok Ha fatto molto ridere Questa cosa Perché questa cosa Ha fatto molto Ha 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 Splochete Ha fatto molto ridere No ma No I zombie col paracadute Dopo I zombie in moto C'è il fuoco amico Ma che carino Guardalo Ma bellissimo Ma è bello Allora Io vorrei sperare Ma qualcosa mi dice Che non c'entra niente Che è Le mutazioni Dei nemici Dipendano da dove Vengono colpiti Cioè se lo colpisce le gambe Potrebbe No Potrebbe Uscire la gamba mutante Se lo colpisce in te Cioè non lo so Se questa cosa è casuale O se effettivamente C'è questo criterio Perché questa cosa Sarebbe molto figa Che ho visto Ah no Sei uno dei miei Sì Scusate Ho sbagliato No mi sa di no Vedete Sono uscite le gambe Senza motivo Anche a questo qua Ma quanti cazzo siete Ok Corri 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 No senza sbattere Sto guardando la chat Ok Sto provando ad andare in copertura Ma Fico Sì Il lancio della granata Della scorsa volta È stato Mistico Però anche la scenetta Del Ah 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 Ha avuto il suo perché Con quelle gambe mutate Sono un misto fra dei polli E dei gormiti Sì e fanno capoeira Comunque Esatto No no Che partner Che partner Qua dobbiamo Godercela tutta È un coming domani Li sto alternando Eh Ah no domani è sabato No ma la faccio la live domani Domani è un coming Ha 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 Sì, è un mercenario, ma ora ora è sotto la protezione del governo US, non è un problema per il PSA Ah, questo è Siochi di tuo padre Questa cosa è un misto fra l'epico e il disgustoso Sherry è tranquillissima Mi so, ora doveva stare scarica là Sherry, qua quel tiro lì sopra No, 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 molla, molla, molla Io non so dove doveva andare Ah, posso fargli il tunnel? Posso fargli il tunnel, ok? Era stato un caso che mi aveva afferrato, ok, ok Eh sì, però ora sei fuori Che comunque che bella idea lasciare lì con l'enorme punto debole sposto Guarda quella come spara Ma dov'è lui? Che stanno sparando? Oh, ci sono dei cattivi qua Sì, ma io voglio Ma guarda lei, ma guarda lei Lei vuol Voglio farti una mossa No, no, no Ok Eh, lo so, eh lo so Hai ragione, hai ragione pure tu Hai ragione pure tu Voglio colpirti Sì, la piccola placenta che hai da schiena È una cosa tanto carina, esatto Ti prego, ti prego, ti prego, sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Non volevo che cadessi qui sotto È molto Droppa, droppa Droppa, sì Sì, 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 sì 4.000 punti abilità grande Tu che cazzo ci fai qua? Escono dalle fottute pareti Ah, distrugge tutte le torrette Perdonatemi, ero un attimo distratta Una pillolina ce la prendiamo Vabbè, stiamo giocando a facile Qua siamo proprio a livello Ma minchia abbiamo un esercito dietro Abbiamo tipo Abbiamo quattro persone che ci seguono Boh Che un massacro qua Cioè, già Chris sta da solo? È pericolosissimo Demolito Ah, tu sei qua? Oh, questa difficoltà alta Secondo me è tosta Comunque No, perché Molto guerria Questi sono degli infani Sì, ma perché Sono infetti Ma per finta Cioè, di base Sono soldati Cioè Ok Ah, va bene No Oh Grazie a tutti! Ma si sono fatti male? Si sono fatti male, io non ho parole. Ah, quindi forse se non lo ammazzi, cioè se lo ammazzi non appare. Che devo fare? Devo scendere. Che state facendo voi? Vabbè. No, ma io voglio uccidere il coso. La coppa si può fare con quelli da trame, le varie storie si... Ah, quindi si può fare in quattro, cioè qua potrebbero esserci effettivamente le tre giocatori. Sarebbe molto figo. Fin con la sola in posizione delle mani è riuscito a fare sfodere tutto. Eh, il fatto che ci sia il tizio sopra che cammina non mi aiuta molto con la mia già scadente mira. Questa cosa è fichissima! No, ma cosa? Ma questa cosa? È troppo figa! Ah, scusa, tu siete con noi, scusa. Sei vestito come cattivi. Ne so io, mi confondo. Ma quindi? Sono persissima. Grazie, gioco che mi indichi la strada. Non posso. No, ma Sheryl in realtà è la più forte di tutti, perché è proprio fresca, non ne frega niente. Siamo passati da... Sì, suoniamo il pianoforte della villa a giganti, mutanti, infetti, ma tanto stica. Sì, Chris è spara... Puoi anche colpirlo, sì? Grazie. No, 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 no. Aspetta. Dai, vedete? È il taserino? Ah, cristeccone, grazie. Non posso fargli niente? Ah, la... È chiuso, non posso... Oddio, sì, 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 ti prego. Mamma mia. Sì, sì, ti... Ti prego. Come ti viene in mente di fare... Una cosa del genere. Comunque. Che schifo un prolasso. Che schifo. Quello è un prolasso. No? Eh, vabbè. Ho capito, però. Eh, ho capito. Io vorrei salire, però... Aspetta. Arrivo. Come cazzo ci arrivo lì? Come faccio a salire di nuovo? Perché è sceso? Eh, ho capito. È fai drammatico. Un secondo. Aspetta, arrivo. Arrivo, aspetta. Eccole. Arrivo, eh. Sto arrivando. Adesso ti uccido. Vieni qui. A posto. Ci teneva tanto lui. Lo farsi ammazzare. Ragazzi, che c'entrano i forno. Il prolasso è una condizione medica. Io non so che problemi avete voi con il forno. Cioè... Cioè... Ma sta ancora... È morto o no? Mi sta facendo? Io no. Io risalgo, eh. Ma si è freddo da solo. Sto mirando. Dai, dai, dammi 4.000 punti esperienze. Dai. No. Ma mi sta togliendo vita? Sì. Vabbè, non importa. Non posso. Allora. La musica è proprio brutta qua. Ce l'abbiamo fatta? Con calma. Sì. 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 Ok, siamo stati bravissimi. Se non fosse stato perfino. Adesso succederà qualcosa di orribile. Sì, vabbè, lascialo stare. Ma cosa ha, Chris? Sente le Wesker vibes. Sente... Sente profumo... Di casa. Ma non trattarlo male, poverino. Che ci ha sparato il culo tantissimo. Che se non fosse stato perfino a scoppiare le cose, eravamo ancora bloccati. Ma che figo. Ma che bello. E' bellissima questa cosa. Ci sarà un profumino qui dentro. Per lusso il municipio, ok. Ci ho sperato tantissimo che qui dietro ci fosse qualcosa da raccogliere. Ok, sono contenta che ne ho trovati un paio. Ne ho trovati troppi pochi. Perché comunque sono approfondimenti... Per la storia. Peccato che siano nascosti dietro queste cose. Cioè, fossero stati, che ne so, piccoli extra. Oppure magari dei costumi, anche cazzatine. Però che mi metti la storia nascosta dietro dei collezionabili... Non mi piace come cosa. Cioè, anche perché è proprio importante per capire il contesto di un sacco di roba. Cioè, magari mi potresti mettere come extra i modelli. Cioè, tu mi metti, che ne so, hai il bestiario e mi sblocchi, no? I modelli dei personaggi, dei nemici, trovando gli emblemi. Però così... È il figlio legittimo di Chris e Wesker. Sì, vabbè. Ma che figata. Sì, vabbè. Questo ragazzo è nato con lo stesso criterio con il quale nascono i figli in Giorgio, comunque, ok? Cioè, tipo, Giorno Giovanna, no? Più o meno è la stessa cosa. Immacolata... Eccola. Immacolata concezione. Io comunque avevo premuto il colpo per il pugno. Non so perché non è partito in tempo, però, ok. Eh, cattucce calibro 12. Ah, fucile a pompa d'assalto. Yes. Che nel municipio è risaputo essere... Cioè, è normale che trovi un fucile d'assalto in un municipio, no? Cioè, tra tutti i documenti trovi anche... Un fucile da guerra. Ok, già questo come setting mi sembra più interessante rispetto alla guerriglia urbana. Ma di base... A me la guerriglia urbana non ha mai ispirato come concept di gioco. Magari giocato insieme a qualcuno può essere divertente, però così... Ok, che cos'è questo schifo? Sì, grazie per avermi detto l'obbio. Ok, fucile. Ma questo è molto grosso, un po'. Io non so cosa devo sparare. Eh, usiamo questo. Senta un cazzo sto colpo. Qual è il tuo punto debole, bimbo? Fammi capire. Faccino. E faccino. Non capisco, vi giuro. Io sto colpendo... Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Niente, hanno... Vanno... Vanno... Menati molto... Forte. Ok, non mi ricordo come si schiva. Ok. Questo potrebbe essere un problema. Bello che non mi prende lui. Non fatelo... Non fatelo... Nooo! Mi stavo divertendo un sacco. Mi hanno rovinato la festa. Mannaggia loro. Vabbè. Era troppo divertente. Non capisco lo spirito della festa. Sono molto delusa. Adesso facciamo in serio un secondo. Sì, ma non mi dare punti abilità nella mini boss. Dammi possibilmente delle granate, sì? Sì, niente granate, no? No, niente granate. Ok. Aia! Mi ha fatto molto ridere questa cosa. Ovvio, ma io non vedo quale sia la cosa strana del fatto che un pugno di Chris stordisca più di un colpo di fucile d'assalto in piena faccia. Cioè, mi sembra il minimo questa cosa. Vabbè, comunque stiamo giocando facile, cioè. Peccato che erano in due, perché se non fossero stati in due, secondo me, quello lo poteva ammazzare a cazzotti. Sarebbe stata una cosa carina. Volevo ammazzarla a cazzotti. Purtroppo mi hanno rovinato il piano. Scusate. Cos'è stato? Ah, c'è qua? Aia! Smettila. Chris, stai benissimo. Dai, su, alza. Quello sveglissimo che ricarica fuori copertura. Minchia un genio. Allora, allora. E qui purtroppo non c'è molto da commentare, mi rendo conto. Capisco perché Sabacus era sfracanato le palle. Mi disse che aveva mollato la campagna di Chris. Perché è divertente che sia, diciamo che a livello di input ti dà molto poco. Anzi, questa zona è carina. Quella di prima, insomma. Cosa sono? Sono siringhe? Iniezioni? Sì. Sì. scollacciadissima che è definitissimo oh no fin yes sir Ma perché improvvisamente è armata Tenetela d'occhio Con le armi Adesso è armata Cos'è successo? Sono confusa Se le dai l'arma in mano così Sono anche quei cercati Io che ne capisco C'è un medaglione? E dov'è il medaglione? E immaginavo che qua ci fosse Perché è zona da Da medaglia questa Qua però torna indietro No, qua si torna troppo indietro Dov'è? 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 Dov'è la medaglia? La medaglia? Su Eccola Trovata senza aiuto Ah, troppo brava Fantastico Una cosa in più da leggere No, ma Ada Come cazzo sei vestita? Oh yes Venite, venite Sì Sì Ma fammi usare le granate Fottiti Aspetta Aspetta Ma la sono usata addosso Carina questa cosa Ah, ma il danno è relativo Ahia Ahia Minchia Che sbreccola Che mi ha dato Ma non droppano? Certo che droppano No, no Io li voglio ammazzarsi Cazzo 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 Fammi 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 ammazzare Siamo Dov'è Facile Guardate Guardate il tailing Oh però Si prendono a colpi Fra di loro Che visione Sì Sì Però morite anche Sì Aia Ok Eh, me lo dovevo togliere Sta soddisfazione Vabbè sì Ovvio che qui è difficile Non Via Di scatole Ok Qua scappi Cioè non Anche diciamo Anticlimatico Che cazzo corrono Sono morti i nemici Cioè Da che stai fuggendo Disse Alla donna armata Comunque Che schifo Che schifo Che sta facendo Ma che sta facendo Ah è scesa Ha fatto il giro Ma che carina E' uno di quei draghetti Avete presente Quei draghetti Certo Comunque notare Che questa va giù In tre secondi Ti dà mille punti Abilità Quella roba A dodicimila colpi E te ne chiedetene Da mille e cinque Non ne vale la pena Però Sembra Avete presente Quei delle lucertole Che allargano La membrana Per sembrare Più grossi Non mi ricordo Come si chiamano Draghobarbuto Si però Ce ne sono Alcuni Che sono proprio Ce l'hanno enorme Perché alcuni I draghibarbuti Non sono tutti Con una membrana Hanno la testa larga Però ci sono proprio Quelli che sembra Che hanno proprio Tipo cobra Praticamente Sono troppo carini Tra l'altro Ok Ma mi fa ridere Che si stanno portando Dietro la Civile armata Ok No vabbè Qui però Aspetta Non va bene Questa non è Una situazione Ottimale Però Stanno iniziando Essere troppi E io Poche munizioni Che cazzo ha fatto Oh merda No no Questo è brutto Aspetta Questo lasciamo stare Che male Che male Che fanno Eh no Il colossone Lo lasciamo perdere Troppo munizione Non vale la pena Tu sei buono Tu sei buono là Sì Ottimo Ma non vi siete affezionati A Finn Non state soffrendo All'idea che muoia Non siete tristi Vabbè Finn Sei un cazzone Però Finn È una cosa Dovevi fare Una cosa Dovevi fare Finn Ah e adesso Finn È finito Resisti Vabbè Effettivamente È bruttina Come cosa Sì È un po' bruttina Capitans We gotta move Now We gotta go Ha sbattuto la testa E si è scordato tutto Lui aveva un nome Gli altri no Infatti No 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 Solo Finn No vabbè La sua squadra Ok Tragedia in Europa Quindi Quindi non ho capito Cioè questo è il motivo Per cui È tipo traumatizzato Con questa musica terribile Ehm Vabbè Non mentiamo Il corpo a corpo Siete addolorati? State soffrendo? No Io non riesco a credere Che ha perso la memoria Perché ha preso la botta Dai Non è possibile Che per questo No Non è per questo Piers Sir È stata veramente La botta Però poi Leon lo convince A fermarsi Poi Leon lo convince A fermarsi Dopo tutta sta merda Vabbè Ok Più che altro Non lo so Ora Io non ho Me Ada Sempre stata sul culo Così come del resto Leon Quindi alla fine Si sono ritrovati Però Cioè Fino ad ora Almeno nei titoli Principali L'ho sempre vista Ambigua Nel senso Si era un po' Super partes Perché Ti aiutava Però aveva i suoi interessi Personali Però non era Dalla parte dei cattivi Quindi diciamo Ci guadagnava sempre Stava con un piede In due scarpe Ok Quindi non era Un personaggio positivo Però non voleva neanche La distruzione del mondo Cioè voleva guadagnarci Però Senza farla troppo sporca Ma quello che ho visto Per ora Cioè comunque È fatto veramente Schifo lei Per adesso Cioè Probabilmente avrà anche I suoi motivi Però ha fatto Veramente schifo Si è indipendente È una donna forte Esatto Cioè Ma il fatto che È fatto proprio La bastarda Cioè La fa trasformare Quelli Perché In quel modo Cosa doveva Fare il test Vaffanculo Puoi anche farlo Senza sorridere Cioè Minchia Era una villain Lì comunque Ah Va bene Un'anaconda gigante Invisibile Un'anaconda gigante Invisibile Perfetto E perché ho le munizioni Del mio pass Cioè È bellissimo Che ho ancora Che ho le munizioni Che avevo Che ho Che avevo finito Il mio flash Quindi ho consumato Le munizioni Pensando al passato Questa cosa è molto poetica Sì ma non metto in dubbio Che giocando la campagna di Ada Si capisca Però al di là di tutto È proprio sporca la cosa Cioè Non c'è nessuna giustificazione Del fatto che tu arrivi Soghignando E trasformi dei ragazzini In mostri Ok Cioè Non c'è una giustificazione A meno che non Finn Non fosse il capo Di una Di una setta satanica E noi non lo sapevamo E mangiava Stufato di Di neonato Ogni sabato sera Non Mi sto guardando Intorno a cercare Medaglioni Ma Immagina Chris Che mentre ricorda Spara a caso Esatto Sì è una ragazza Frissante Ada No Ma Ti prego Scaram Grazie No 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 Posso rifarlo Fammelo rifare Di nuovo Non è possibile Non è possibile Lo scivolo Posso usare Lo scivolo No vabbè La giostra è un altro livello Comunque La giostra è un altro livello Completamente No Devi salire Sullo scivolo Chris Lo scivolo Chris Questo scivolo Non è interagibile Ok Qui Qui non si può scivolare Solo da qua Si può scivolare Ok Ok allora Qui devo fare Una foto Scusate Devo A posto A posto Possiamo andare avanti Dopo questa possiamo andare avanti Gli piacciono Gli piacciono Gli scivoli gialli Ma lo vedete Che è un angelo Quest'uomo Cioè Voi continuate Continuate A dire Zosserie su di lui Io ovviamente Mi dissocio Continuate a dire Zosserie su di lui Quando è Un animo puro E questo te lo dimostra Cioè È prezioso Ecco Scaram Esatto Esatto Sei arrivato al momento giusto Che momenti È un animo sensibile E delicato Io non Cioè Lì non è malizioso Lì non è malizioso Chris no Guardate Guardate che plot Cioè Guardate che spessore Che Che uomo Guardatelo Guardatelo Come fai a non volergli bene? Come Come fai a non volergli bene? Comunque Io vi ricordo Che abbiamo un'anaconda gigante invisibile Ricordiamoci comunque Che nel primo Resident Evil C'era il serpente gigante Comunque Non lo giudico Non lo giudico Migliore di questo Sinceramente E la pianta Boh Vabbè No no Perché i primi Resident Evil Non erano trash No Minchia I primi Resident Evil Erano Scientificamente accurati Il sangue Redfield Ma perché Chris Vorrebbe essere zio Ma non ve l'immaginate Chris Zio 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 Chris Che bello Sarebbe Averlo come zio Che vi racconta le cose Mi prende in braccio Niente Non avrà mai dei nipotini Ma vabbè Ma voi siete dei minchia Voi siete Voi siete Minchia Voi siete quelli scarsi Io ho avuto Io ho avuto I flashback del Vietnam Dove c'era la gente Che si paraggutava Voi siete gli strozzi Con le sciabole Per quanto Qui tagliavate il pesce Tre secondi fa Ma certo che ho i traumi Del primo serpente Del serpente Il primo Resident Evil È una boss fight Di merda Ovvio che ho i traumi Ma io ho i traumi Ma il mio Il primo Ma il primo Ma il primo Resident Evil Per me è un costante trauma Ovvio che è un trauma Posso alzarmi Per favore Grazie Cioè per me E ho giocato il remake E ho giocato il remake Un incubo E l'ho giocato Ho registrato E ho tagliato Voi non avete idea Di quanto ho tagliato Che mi perdevo In quella cazzo Di villa di merda No 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 Non è cosa mia Proprio No 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 Dammi dammi la guerria Dammi gli stransi Paraggutava Che poi come paracambito Non è cosa mia Io vorrei sapere Che lingua parla Comunque Ah no Le tarantule Del primo Resident Evil La prima volta Che l'ho visto Vi giuro Che mi sono bloccata Cioè mi sono dovuta Fermare Perché è troppo schifo Troppo schifo Però Smettila Ha rullato E fanno Dark Souls Giocare il primo Resident Evil Col modello di Chris Versione Chris Tecca Però È fantastico Cioè lui non passa Dovrebbe passare manco Dalle porte Di quella villa È bellissimo No no Che partner Stanno passeggiando Fra le esposioni Tutto a posto Che ada Parole dure Aiuto a scegliere Jake Schifo Ah sì sono casse Chris ti prego Ho bisogno di munizioni Che ne ho sprecato un sacco Per fare la cretina Ma ne basta assolutamente la pena Sì Suppongo anch'io che parlino cinese Ma non mi sembra cinese Ora io non sono un'esperta Linguista Per cui magari sto dicendo cagate Però mi sembra che parlino tutti allo stesso modo Sto andando a caso eh Cioè non Ma perché Ma che schifo Ma che schifo Incredibile Ma Proteici eh Se non è Chris se li mangerebbe Chris se li mangerebbe Sono ad altissimo contenuto di proteine Quei cosi Però Che schifo No l'ultimo film di Resident Evil Non l'ho visto Ho visto la serie tv Però durante lo scontro finale Mi sono addormentata Quindi non ricordo assolutamente nulla Non ricordo neanche come finisce Eh Non so dove devo andare Io non so che devo fare Eh Non so che devo fare No vabbè fa troppo ridere Scusate non lo faccio più Oh sto farmando munizioni Ho finito lo spazio Sì vabbè Da dove mi hai colpito Non dire cazzate Non è vero Non mi prenderemo munizione Cosa cacchio devo fare Cosa devo fare Che non ho capito Andiamo Ci sono le frecce Ma devo Cosa devo fare Devo ammazzare sti cosi Ok Che ci voleva Mamma mia Le botta il grillo Che soddisfazione Ma perché Perché Non ho senso Perché sono grilli Devo uccidere quello là Dove ammazzare il limite No Ah forse quello C'è qualcuno sopra All'elicotto Ok quello Sì ma io Come ci arrivo A sparare a cornuto lì Tutti i posti In cui si poteva mettere Ok Poteva ucciderci tutti Che poi Io mi aspettavo Visto che comunque In In village Riprendono Il fatto di Chris Della squadra Nominano Dei membri Della squadra Che hanno delle voci Distinte Io pensavo Che venissero presentati Nel corso Di Resident Evil 6 Visto che Comunque il 7 Si discosta E Chris Diciamo Abbastanza di contorno Pensavo che La campagna Di Resident Evil 6 Di Chris Mi presentasse Una squadra No Ok Sì ma con che voce Da corpo L'ha detto I'm on it Lancia granate Uno spazio Per lancia granate Vabbè Sto cercando di No Vabbè Non so perché Dai muori Su Dai Il fatto che muoiano tutti Con lo stesso suono È fastidiosissimo Allora Dov'è lancia granate Quando serve Bene Ottimo Era Era Come Come previsto E ho capito Sei stronzo Stai fermo Vabbè Raga Che liscio Stai Morendo Come una Stronza Perché Nessuno Mi copre Non so cosa Mi sto Stottendo Però Ok Dov'è Come mi Tardo Non capisco Dove Parare Non riesco Andare In copertura Forza mia Si vede Un cazzo Si vede Un cazzo Dove è andato Venga qui Venga qui Che sta facendo Che sta Altro che se si sente La mancanza di Elena La cattiveria di Elena Pierce non la sfiora Nemmeno Cioè Prego Che fastidio questa cosa però Ciuccia Pierce Che sta rosicando Ma ha ragione lui Ha ragione Pierce comunque Guarda di tutti i modi In cui si può morire Questo forse il migliore Di quelli che ho visto oggi Telecamera Che belli gli ambienti Che belli gli ambienti Fico Dai mi abbiamo trovati un pochino Dai tutto sommato Sì però non do fatemi i gemiti Perché se mi fate i gemiti io sparo Sai il pacchetto acquistabile a parte Non so non lo so Non lo so Non lo so Grazie Chris Ma non credo comunque Cioè Gli unlock del gioco Di Resident Evil 8 Sono Unlock che Perché impuntamento? Io non sto mirando Era impuntamento automatico Cioè è roba che sblocchi giocando Non avrebbe molto senso Ok può essere Però non sapevo neanche Che c'è qualcosa di extra Da comprare Per il gioco Quindi Vabbè questo è morto Ok sta entrando Ecco Bravo Comunque i serpenti Non fanno assolutamente così E soprattutto Non hanno la retromarcia Non hanno la retromarcia No non litigate Non litigate Dai Chris però Non si fa così Non essere così aggressivo Ha fatto una domanda intelligente Ma poi manco li mangia Cioè cosa prende? Li prende Li sbatacchia E poi li butta via Manco se li mangia Sì vabbè Invisibile Amminchia Sì sì Vabbè Invisibile Perché è un misto Di mutazioni Di sto cazzo Famosi serpenti Invisibili Ragazzi Topo 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 Perché non mi fa sparare? Fammi sparare al topo Perché non posso sparare? Vabbè No no Non so perché non mi fa sparare Volevo sparare al topo Vabbè Era inutile Era ovvio Che sarebbe morto Però Oh no Oh no Reed Personaggio Di cui ho appena sentito Il nome Come faremo? Senza di te Tuo cugino è morto Dal morso D'un serpente Invisibile Oh no Sneaky piece of shit Sneaky piece of shit Cioè Siete Ha preso una botta in tessa Perché Ma perché Con questa cosa? State facendo la figura Dei cazzoni Il terzo Il terzo Il terzo Sì Sarà anche invisibile Però Cioè Cioè Pesa 300 kg Cioè Lo senti arrivare Ah eccolo Reed Niente Fa il passivo aggressivo È un serpente passivo aggressivo Nessuno lo sa sentire Sembra Sembra un horror slasher Questa parte Si fanno ammazzare Dal mostro Stupido Ehm Forbidden Siren L'ho provato Ehm Cioè Ma io non l'ho provato Ho visto i primi 15 minuti Di gameplay E mi ha annoiato Quessi tanto Che mi stava Adormentando Per cui non credo Che lo porterò mai Mi dispiace Non è assolutamente Il mio genere Cioè L'ho trovato Confuso E Buio E Ripetitivo Probabilmente Sarà anche un capolavoro Ma non è assolutamente Per me Cioè Mi dispiace Ok Dai Boss Oh no Dei maiali Abbassare Soluzione Sono brutti Sì Vabbè Siete scemi Comunque Sì Oh L'ha salvato L'ha salvato Intanto Lascia fare Vabbè Punto d'evole È la bocca È molto carino Molto carino Ma Molto carino La Aia È un attimo Però Un secondo Boh La prepotenza Fammi capire qua Sì vabbè Si vede Certo Secondo me prendo Guarda Faccio una cosa Che minchiai Non c'è gran acqua Ho fatto una cosa Molto intelligente Lo so Grazie Comunque Arrivando Scherzando A fare la cretina Ho finito le cure Fare la La deficiente E dai Che caccio Non sei tempi di reazione È Chris Comunque Cioè Poi ci sono io Presso Lui Devo fare tutto il lavoro Io Nessuno Mi sta facendo niente Sì vabbè Ci stiamo credendo Sì Ok Ma dove arriva Vabbè È carina Allora A livello di boss Fai un'idea simpatica Però è tipo Di un trash Incredibile Lo percepisce Allora Dove sei? Invisibile Cazzo Guarda quante munizioni Mi stanno dando Però mi devi dare pure Le cure Ma cosa sono Cosa da mangiare Queste Ah 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 Eccolo Ok Ok Ah ah E non si fa Lo sente Nei bicipiti Sì ma non Non è un'arma Biologica Questa Cioè È un palese Rovere Non dovrebbe esistere Che succede? Va bene Ok Ok Devo salire E fare Non lo so Non ha funzionato L'ho ri-lollo Grazie Ma io non ho capito Se ho fatto la cosa giusta No Aspetta Aspetta Tanto tu non muori È stato qui un secondo Troppo tardi Ah ok Ci metto un po' di tempo Per ricaricarsi Oh no Ce l'ha con me Oh no Ah E ho capito Un secondo Vabbè Perché cazzo Però Non ho capito Che devo fare Ma sale sopra Ma come faccio A farlo scendere giù Perché non segue più Lo stronzo Segui lo stronzo Quello piccolo Devi seguire Segui lo stronzo Non devi seguire me Segui lui Lasciami stare Toh guarda Fallo tu Che sei più bravo Vieni qua Vieni 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 Toh Grazie Oh A posto Era tutta Perfetto A posto È un serpente Con buon gusto Mi sa che è Marco Marco si è presa Una scossetta Posso passare? Non è possibile Che è successa Questa cosa Non può essere successa Veramente questa cosa Già non stanno parlando più Della gente Della gente morta Prima della squadra Con tutto il dramma È finito Very fast Oh no Ti prego Non è che adesso Adesso mi incrocio Con Leon No Troppo presto No Non mi incrocio Con Leon qua Non è qui Sì ora Ditemi No ma viene spiegato Nella sua campagna No Sei una figlia di puttana Non aveva nessun motivo Di fare questa cosa È Marco Poverino Esatto Marco Potevi essere qualunque cosa E sei diventato Uno sciame di schifo Sei diventato mosche Marco Ti ricorderemo Ti ricorderemo Ti ricorderemo Per quello che è Se sta Ti ricorderemo così Allora Per favore Non piangete in chat So che siete molto colpiti Da Da quello che sta succedendo Esplosivo C4 di Marco Non dare puglia al C4 Cristo Stai tranquillo Dai 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 non fare così Dai non fare così Chris Va bene Cioè sono morte tipo 700 persone poco fa Stai Non Io non ho Io boh Io boh Il dramma Questo ci costo me Basta Chris Parole dure Parole dure Si dice Scusate Cosa cazzo sta succedendo Ma basta Le pillole Chris le pillole Ora biange Chris Comunque Deve 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 Farsi TSO Per quanto mi riva Chris è da TSO Comunque Hai capito Chris Che la vogliono viva Mi sa che non l'ha capito Se smettila Di fare il possibile Chris No no Sì 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 Disse l'uomo Che fino a tre secondi fa Non si ricordava più Manco il suo nome Ed era in un bar A ubriacarsi A fare battute Sessiste Cosa è successo Che è che mi sta sparando Cosa 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 comunque C'è C'è Pierce Che ridendo E scherzando Vai in giro Tipo con un barret Comunque Impugnato con un mitra C'è tipo un anticarro Però lo usa come se fosse Una mitraglietta leggera Vabbè non importa Cacchio devo andare Chris dammi la via Toh Giochiamo qua Sulle barchette No Prendi l'emunizio Prendi l'emunizio No Prendi l'emunizio Veramente non ho più spazio C'è questo inventario di merda Vabbè niente Non so cosa stiamo facendo Sì comunque sono molto colpito Da questo dramma Di Chris I grilli Io mi sento male I grilli I grilli Mi sento male I grilli Vabbè Sono i grilli cinesi Che cazzo Chris doveva fare La campagna con Elena Va Body with fruit Grazie Chris doveva fare La campagna con Elena Secondo me sti due insieme Sarebbero stati Un capolavoro Ancora vivo Cosa Cosa schifo è Oh merda No 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 Questo è brutto Va bene Ho sbagliato Ho sbagliato Premere cerchio Perché adesso Non so se potrò Sì vabbè Però è un meme Questa cosa È un meme Stavolta Cosa sta succedendo No Chris che insegue Ada è un meme Dai su Non puoi prendere Sul serio Questa cosa Smettila Di fare le mossette È stato bellissimo Che ruotava Che ruotava La sua bellissima sciabola Io ho dato un cazzotto E sono forse via Così realistica Come cosa Oh no Che belle Le ambientazioni Ah grazie Parliamo di videogiochi Che arriva Un momento topico Che succede Pierce Che succede Io non so Dove devo andare Vabbè Ah la la Sentite la tensione Ah ma i vasi Si possono rompere Dentro ci sono Delle munizioni Attenzione Ah ma mi stai dicendo Che devo abbatterlo Mi stai Veramente dicendo Che è arrivato Il momento Di fare Ok questo è un overkill Ne ne vedo quanto Va a posto Così vai Non ho più cure Non ho più cure Non ho più cure Fammi tornare dentro Fammi tornare E dai Su E dai No Non si No Non si fa Sto cercando Di fare qua Ho risaputo Che le strutture Cinesi Sono Totalmente Immuni Totalmente Immuni Ai colpi Di Un elicottero De Che succede Let's go Ragazzi Let's go C'era una pianta verde Dov'è la pianta verde Ora voglio Di ristorante cinese Ah La pianta verde Eeeh Ok Purissimo Purissimo Grazie Per avere una mostrata Mi avete salvato Io non so perché Si affondano Cioè non ho capito Perché esploso Non so perché Esploso Però Va bene Oddio 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 Si 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 È stato molto divertente fare questa cosa Pierce tutt'apporto Ancora vivo? Sei testardua, eh Passa, Chris, e le cose esplodono Allora, allora Non penso manchi molto alla fine del capitolo, comunque Abbiamo già avuto un boss, comunque Per cui Più di uno, se consideriamo Anche gli elicotteri No, Dead Wings, la campagna di Chris È un po' ripetitiva È a livello di spunti Sinaptici, lascia molto poco Cioè, hanno cercato di mettere Un dramma da soldato con disturbo post-traumatico Ma non... Per avere un disturbo post-traumatico Da stress Devi essere in grado di Poter provare stress Questo è... La vogliamo viva No, vabbè Mi fa troppo ridere No No, mi fa troppo ridere Ok, quindi qui Incontriamo Leon Ok Qui mi sa che ce l'incrocio con Leon Solo che Chris è... Cioè, proprio qui Mentre inizialmente hai la giustificazione Che è ubriaco Per cui dici Vabbè, poverino, ubriaco Solo che sembra costantemente ubriaco Cioè, ti dà proprio la sensazione Che è il suo qui Non ci sia più Esatto Qua ci sono Leon e Elena Aspetta, non me lo ricordo come si faceva Da vaffanculo E dai però Che palle Mi hai spawnato davanti E dai Mi sono alzata su... Che palle Non potevo farci niente Spara sto coso qua Cioè, mi sono alzata Ed è finito sul laser No, questa parte No, poi ci sono le mine merdose Che non ho capito come si fanno La odio sta cosa Sta parte la odio Sì, sì Sfigato Guarda, non riesce a salire Non è un quick time event il laser Devi fare la scivolata tu Non è un quick time event Va fatta la scivolata Infatti, nell'altra campagna Ti facevano pure il tutorial Allora Punti, cartuccia Spray Eeeh Mi sa che lo dovrò usare No, no, non è un laser Abbastanza potente da tagliuzzarlo Chris è troppo spesso Guarda, non lascia stare Testi per prototipi Sì Ok Cosa penso sono sti cosi? Sì Sì, però non puoi farmi il cambio di inquadratura Che cazzo Ma che c'è come una challenge qua Chi fa prima? Dai, ho fatto, ho fatto Dai, fammi uscire Ok Abbiamo vinto Abbiamo vinto Sì, ma che cosa serviva questa cosa? Qual è lo scopo di tutto questo? Ok, vabbè Qui adesso c'è la scena con Leon L'abbiamo visto Fanno esplodere la polvere Sì, sono dei Sono dei droni Dei droni Vabbè Dei robottini Per la polvere Però esplosivi E armati I romba Sono dei romba Però Militari Tipo colpita 16 volte Come corri male Come corri male Poi beh Sono quei cercati Comunque Corri quei tacchi Quale modo migliore Di far sparire la polvere Se non c'è un'esplosione Certo Quanto corri male Ada Ok Adesso potete anche gambizzarla Comunque Viva non significa Che deve poter camminare Le gambette Niente Adesso si sta godendo La catfight Comunque Dora Donald Goofy Che 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 Lei riusciti Ricordatevi che qua Pierce Fa freeze Prima di sparare Comunque a data Ok Non puoi dire Freeze Ma sei un cretino No No, penso Mentre lui è uscito E spara È carino che sono sudici Comunque Mi fa piacere che Almeno loro In questa campagna Si vede che sono proprio sozzi Cioè Leon va bene Un po' sporchino Però comunque ha sempre Sto capello vaporoso E il vestito da fighetto Sì non vedo niente Cristo è troppo grosso Mentre invece comunque Loro fanno un po' di Il zozzo Madonna Quanto brutta la mira però No Ragazzi È terribile È terribile È troppo sensibile Sembra un mouse Ma non è un mouse Ma non è un mouse Merda No È terribile Non so come Non posso fare niente Terribile 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 Non riesco a mirare Non si mira un cazzo Non so fare Non lo so fare Che cazzo E dai Madonna Ma chi è che ha programmato Sto cosa Cioè letteralmente Hai il gunplay normale Che funziona E qua non si è capito Qua è sensibilissimo Sto sboccando Vi giuro È terribile Non si vede niente E poi È tremendo Per te È proprio vomito Non so cosa devo sparare È lei Non so che devo fare Che mira Non si capisce niente Molto 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 Meglio Questa sezione Così fatta Sul Nel 5 Ma Per questo Schifo Vi giuro Ho la nausea Ho la nausea Sto soffrendo Questo cosa Non mi surriscalda Con la munizione Non c'è Cio Io spero Che chi abbia pensato Questa cosa Non lavori più Perché Mi giuro Sto male Più che altro Non ho capito Che devo sparare Spero che finisca Presto Alfa Come in This is Seltzer This is zero We can't On Ada Wong We're trying to Hold out On our end But we ain't gonna Last long We gotta catch that Woman Before this gets Any worse Don't worry Seltzer We will Just keep Those civilians Safe On to that Good luck Hopefully we can Put an end To this shit storm Delta Out Bello Bella 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 idea Non lo so Dove stiamo andando Non so Che sto facendo Va bene Io lo farei Do sparare al treno Io non capisco come è possibile Bastava copiare Resident Evil 5 Bastava letteralmente copiare Resident Evil 5 Ma io non sto guidando la macchina Ma Che succede? Pierce? Pierce? Pierce è tutto a posto? Pierce? Pierce non stiamo facendo scuola guida nel parcheggio? Ma cos'è successo? Ma cos'è successo? Meraviglia ragazzi Sì ovunque Come sto manco a mirare Ferma Ha avuto Pierce? Ma Pierce sto sboccando Puoi guidare bene Per favore Sì ho Forse ora Ma Prima era automatico eh Prima non c'entravo niente io Vedete già che Chris non sa guidare Comunque Perfetto Perfetto Ma non posso andare Io non vedo un ca- Non posso Devo No non puoi farmi guidare in prima persona così No non puoi farmi fare questa cosa veramente Vabbè Pierce spara Pierce Spara Sto Soffrendo fisicamente Basta dare pugni Chris Ma non si capisce una fava Non si capisce un cazzo Ma non puoi farmi fare il turbo Inquadrare per terra Mentre qua c'è il turbo Minima abbassi l'inquadratura Guarda la strada Ma che è sta merda Non è un gioco di guida Finirà Dura poco Dura poco Ok Perfetto Questi tempi mortissimi voi Ok Non posso guidare in terza persona No Pierce spara Spara Pierce Pierce Lo abbiamo superati comunque Il tempo che lui sparava Noi l'abbiamo già superati E loro c'è E loro c'è Pissi Pissi Stanno benissimo Sparatele Veramente Proprio molesta Sparatele Nonna Strina di riconoscimento Porca miseria Ma peccato Ma peccato Perché sta parte Proprio brutta Cioè Il resto del capitolo È moscio È moscio Perché Diventa interessante Praticamente nel punto In cui sai già dove sta andando Perché ti stai Mettendo in parallelo Con Leon Purtroppo Chris non funziona Perché ho capito Quello che hanno Cercato di fare Hanno provato A dargli Una Un conflitto interiore A renderlo più cupo A renderlo più negativo Come personaggio No Quindi comunque Pi' egoista Pi' amareggiato Dalla vita E quindi Rancoroso E disposto Possibilmente Anche a uccidere Quindi andare contro I suoi principi etici Oh mio Dio Cosa che ovviamente Non farà alla fine Però non funziona Non funziona Perché Perché non puoi mettermelo Contro Ada In questo Cioè Come fai a non desiderare Di gambizzarla Capito Cioè per come me la presenti Cioè Non funziona Cioè Almeno Leon È Coerente Col suo essere Una testa di cazzo In tutte le sue campagne In tutte le sue storie È sempre stato un antipatico Che si sentiva Sto cavolo Che faceva Sempre Battute Di pessimo gusto Solitamente sessiste Venga 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 Tu non te lo Dove ti sei fermato con Chris? Io sentivo sei Mi avevi detto Che te l'avevi finita E rotto Io ti giuro Io ti giuro Che ho Seriamente La nausea La nausea Fisica Per la parte Guidata Con la torretta Cioè che Presa di pacco Dal 5 Non nel 5 È figo Cioè Io sto Ho la nausea Io devo Smettere la live Perché sto male E perché sono i per show Di fare vedere Tra l'altro Devo fare il raid Esatto Sì Vabbè Hai sentito Il 2 Lione Era Chris Prima Però fanno sempre Quel percorso Però capito Non funziona Cioè perché Passa il tempo A dare cazzotti È un cretino Non è un cretino Fare un meme Ho visto la scena Dove stai Sulla giostra Comunque Puoi salire Sul giostra Di panda È bellissimo Comunque Allora Io vi ringrazio Adesso facciamo un raid Io ringrazio Tutti i presenti Resident Evil 0 Zero Resident Evil 0 Attenzione Si passa Da un plot All'altro Quindi io ringrazio Tutti i presenti E vi giuro Devo prendermi qualcosa Perché mi gira La testa Io soffro di kinetosi Però questa parte È stata veramente L'Aida Ve lo dico Quindi grazie a tutti A tutti quelli Hanno partecipato E sono rimasti Grazie per il raid Vi parliamo di videogiochi Grazie per le iscrizioni Per le donazioni Per i beats Per tutto E adesso andiamo a fare il raid A sabato Sto male Sto male Sarà difficile montare il video Va bene Va bene Dai Resident Evil 0 Vai vai Buon pomeriggio a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.